Nonostante la crisi, questa fiera della pastorizia è arrivata alla 157esima edizione e poi lo possiamo dire sempre ogni anno molto partecipata. Beh, questa direi celebrazione delle cose belle del nostro passato, delle nostre radici è un qualcosa di necessario. La Camera di Commercio ha sostenuto sempre questa iniziativa, questa manifestazione. D'altro grado, io credo che un aspetto importante di questa nuova stagione che dobbiamo promuovere è rappresentata dalla capacità di promuovere la capacità di attrazione dei nostri territori. Noi dobbiamo saper vendere, ecco una parola brutta, vendere, la nostra storia, soprattutto le bellezze naturali di cui disponiamo. Appuntamento il 2 e 3 luglio. Quali sono i numeri delle scorse edizioni? L'anno scorso, l'ultima edizione, ha visto la partecipazione di 72 allevatori che hanno portato le greggi lì proprio sul pianoro di Piano Roseto e di circa 45 espositori di prodotti tipici. Questo dalla misura di quanto sia importante il comparto dell'allevamento zootecnico di montagna e quanto è altrettanto importante invece la parte che poi sta a valle dell'allevamento che è quella della trasformazione dei prodotti e quindi nella realizzazione di prodotti tipici di qualità. Grazie. 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 Grazie.